Io ringrazio tutti i relatori e tutta l'intensità che c'è stata questa sera, che ci ha tenuto inchiodati senza neanche una pausa. Passo velocemente la parola alle nostre due presidenti che hanno voluto questo evento. Sì, ovviamente ringrazio tutti quelli che si sono trattenuti fino adesso e ringrazio anche chi ha permesso che si svolgesse la giornata come l'avevamo pensata e come è stata prevista. Ovviamente, necessariamente, dopo tutto quello che ci siamo detti oggi, l'impegno degli ingegneri deve continuare. Quindi io e Eva passiamo la palla all'appassionatissima di rugby, è un termine che mi... Alla presidente dell'ordine di Vicenza, Tania Balasso, al presidente dell'ordine di Padova, Riccardo Schwarz, che porteranno avanti l'iniziativa prevista per l'anno prossimo. Grazie ancora a tutti e arrivederci l'anno prossimo.